Istituzioni, associazioni e volontari si confrontano sul tema della violenza sulle donne. L'occasione è offerta dalla presentazione dei risultati di due importanti progetti realizzati dal Comune. Il primo, Aurora, è incentrato sulle attività del Centro Comunale Antiviolenza, che promuove sul territorio azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e con l'attivazione di dieci sportelli di ascolto in tutte le municipalità, si pone l'obiettivo di informare e sensibilizzare le donne, favorendone anche il reinserimento sociale e lavorativo. Il progetto Aurora, in effetti, ha inteso potenziare quella che è stata l'attività ordinaria del Centro Antiviolenza attraverso tutta una serie di azioni e soprattutto l'innovazione è stata la realizzazione di dieci punti di ascolto territoriali presso le municipalità, che sono collocati proprio presso i servizi sociali. Hanno potuto trovare, grazie al progetto Aurora, tutta una serie di servizi prestabiliti, quali ad esempio la consulenza e il sostegno psicologico, la consulenza e, nel caso, l'assistenza legale, l'orientamento al lavoro, che è importantissimo in un percorso di fuoriuscita dalla violenza e quindi verso l'autonomia. Il secondo progetto, Rete Interistituzionale Antiviolenza, ha previsto invece diverse azioni finalizzate al monitoraggio e all'analisi del fenomeno, per mettere a punto politiche di intervento efficaci. È emerso prima di tutto un aumento rispetto ai dati dell'anno scorso, un grosso bisogno delle donne di essere ascoltate, una mancanza di informazione ancora rispetto a quali sono i luoghi dove possono essere accolte, una carenza ancora purtroppo nel Comune di Napoli di strutture per l'accoglienza e per la messa in sicurezza delle donne e quindi un grosso bisogno, insomma, di progetti di questo tipo. Sono stati organizzati focus tematici, workshop e laboratori nelle scuole, un corso di formazione per esperto in psicologia giuridica ed è stato redatto, infine, un manuale di comportamento per operatori del settore. Mettere a sistema interventi e attività che sono fondamentali per contrastare il fenomeno della violenza di genere. Significa avere servizi, quando penso ai servizi penso alle case di accoglienza, ai centri antiviolenza, ma significa avere anche la possibilità di creare dei sistemi che consentano anche attività di prevenzione e quindi non soltanto il trattamento della violenza in uno stadio più avanzato, ma anche proprio di contrastare la cultura della violenza.